Io approfittando del fatto che dopo di me ci sono delle testimonianze di persone e organizzazioni che hanno un ruolo molto operativo e che quindi possono presentare dei casi e delle situazioni concrete forse più interessanti di quelle che posso intercettare io dal mio osservatorio, vorrei cercare di svolgere un ragionamento iniziale sul ruolo della finanza come promotore di cambiamento. Spesso quando mi qualifico come segretario di un'associazione che si chiama Forum per la Finanza Sostenibile la gente sorride perché trova che ci sia una contraddizione in termini tra finanza e sostenibilità, quasi fosse uno simoro e in effetti credo che mi pare di aver visto di recente un sondaggio secondo cui la finanza è dopo la categoria dei politici quella con la peggiore reputazione nel nostro paese e non credo peraltro che in altri paesi la situazione sia molto diversa, in generale sta nel podio dei cattivi. Io non devo, non credo di aver titolo per fare l'avvocato d'ufficio della categoria, peraltro io non lavoro nella finanza, non provengo da quel mondo e quindi non ho titolo per farlo. Tuttavia credo che almeno in parte questa cattiva reputazione sia immeritata e lo dico perché a fronte di numerose evidenze di comportamenti opportunistici scandalosi nel mondo della finanza in realtà c'è un mondo vasto, ramificato di finanza buona che è quella che tiene in vita l'economia e il sistema. Soprattutto mi piace ricordare prima di tutto a me stesso che la finanza è nata con obiettivi di natura sociale. I primi banchieri furono gli ordini religiosi, le prime istituzioni finanziarie furono i monti di pietà, il cui obiettivo era quello di affrancare i poveri dal loro stato di indigenza e quindi offrire delle occasioni di partecipazione alla vita economica e quindi alla vita civile di una comunità. E per secoli è stato così. Poi a un certo punto questa storia ha avuto un punto di svolta. Da un certo punto in poi la finanza ha cessato di essere al servizio dell'economia reale ed è diventato qualcos'altro. E questa circostanza si è realizzata nel momento in cui la finanza ha cessato di essere un mezzo e ha cominciato a essere utilizzata e percepita come un fine in sé. Cioè quando si è cominciato a intenderla come un modo per far soldi, per far soldi con i soldi, quindi usando il denaro come merce e non invece come strumento di attivazione dei cicli economici. Di fronte a questa evidenza storica, mi viene da dire, credo che ci siano due considerazioni che vanno svolte. La prima è che la finanza non è un'attività generativa. Nel senso che la creazione di valore sta nelle attività economiche sottostanti. Quando un'istituzione finanziaria fa credito o investe nel capitale di rischio di un'attività economica permette l'attivazione dei cicli economici ed è nelle imprese, nelle attività delle famiglie che si genera il valore che poi in parte viene anche acquisito da chi gestisce le risorse finanziarie. Ma non è l'investimento in sé che genera il valore, è sempre l'attività economica che ci sta dietro o ci sta sotto dove il valore si crea. La seconda considerazione che mi sembra di dover svolgere per argomentare questa premessa che ho fatto è che la finanza non è un'attività socialmente neutrale. Soprattutto qualche anno fa quando ho cominciato a occuparmi di questi temi e parlavo con banchieri, assicuratori e gestori di patrimoni la risposta che mi veniva data di fronte alle obiezioni sulla responsabilità sociale di queste istituzioni era che in realtà gli impatti economici venivano realizzati appunto da chi questi denari li utilizza per fare qualcos'altro, non dall'istituzione finanziaria in sé. E in realtà a mio avviso così non è, nel senso che affidare le risorse finanziarie a un soggetto piuttosto che a un altro produce degli effetti ambientali e sociali molto diversi da caso a caso. E credo che questa ambiguità di fondo sia legata al fatto che un po' tutti noi consideriamo la finanza come una specie di scatola nera. Mettiamo dentro questa scatola 100 euro, tiriamo una leva come in una slot e ci auguriamo che ne escano 101, 102, 110, 200 sapendo che però c'è anche il rischio che ne escano 0,80 o addirittura che non esca più niente come appunto fosse un gioco i cui meccanismi ci sono sconosciuti. In realtà dentro questa scatola nera ci sono appunto le famiglie, le aziende, le persone sono quelle che hanno bisogno delle risorse finanziarie per poi lavorare, attivare i cicli economici produrre ricchezza per sé e per gli altri e quindi consentire al sistema nel complesso di crescere. Peraltro questo atteggiamento, e va detto con onestà, non è proprio solo dei lupi di Wall Street di queste figure mitiche, ciniche, squallide, grette e meschine. In realtà questa aspettativa c'è anche in chiunque di noi faccia un investimento finanziario che si aspetta o spera, si augura di avere il maggior ritorno possibile sapendo, o meglio non sapendo, o fingendo di sapere in qualche caso che quando il ritorno è alto, è molto alto spesso c'è dietro qualcuno che ci rimette cioè la creazione di valore quando supera una certa soglia spesso nasconde lo sfruttamento di qualcosa o di qualcuno del capitale naturale, del capitale sociale, del capitale umano. Ecco, quindi questo atteggiamento quasi fideistico nei confronti dei meccanismi della finanza è insito in ciascuno di noi e dipende molto dalla scarsa conoscenza dei meccanismi che stanno alla base della creazione di valore nel settore della finanza. Ma credo che possiamo condividere tutti che se vogliamo che la finanza riacquisti il ruolo che lei è propria dobbiamo spogliarla di questa caratteristica di finalità, di autogiustificazione e ricondurla al proprio ruolo di strumento e naturalmente come tutti gli strumenti anche la finanza non è buona o cattiva in sé dipende dall'uso che se ne fa qualsiasi strumento può essere usato a fini buoni o a fini cattivi un coltello può essere usato per spezzare un pane e condividerlo o può essere usato per offendere, per uccidere, per ferire e analogamente accade con i prodotti finanziari i tanto vituperati, i prodotti derivati non sono di per sé cattivi anzi sono nati come strumento di protezione del rischio in realtà l'abuso di questi strumenti ha fatto sì che diventassero dei generatori di rischio dei generatori di instabilità economico e finanziaria detto tutto questo chi siamo, che cosa facciamo e per che cosa lavoriamo l'associazione che rappresento è un'associazione multistakeholder che associa oltre a banche, assicurazioni, società di gestione di risparmio anche le altre organizzazioni che sono impattate dagli effetti ambientali e sociali dell'attività finanziaria e quindi i sindacati, le associazioni dei consumatori le associazioni ambientaliste, i fornitori di servizio e molti altri e proprio per questa sua natura di organizzazione multistakeholder cerca di massimizzare l'area di obiettivi comuni in ultima analisi l'obiettivo nostro è quello di aumentare la dimensione delle masse finanziarie che vengono orientate verso attività economiche capace di generare esternalità positive per la società come dicevo prima investire in una società che in un'impresa per esempio che inquina, sfrutta il lavoro froda i propri clienti, maltratta i propri dipendenti o i propri fornitori eccetera eccetera crea delle esternalità negative come facilmente intuibili rispetto ad un'impresa che invece protegge l'ambiente propone dei prodotti e dei servizi che vanno nella direzione di cui abbiamo parlato questa mattina che ha delle relazioni leali con i propri stakeholder e così via questo approccio alla finanza e all'attività di investimento in particolare comporta due vantaggi che sono vantaggi sia per l'investitore che per la comunità tutela dal rischio e genera delle opportunità di crescita economica sana tutela del rischio perché investire in un'impresa che non incorpori tra i propri obiettivi strategici anche quelli della sostenibilità comporta inevitabilmente dei rischi per l'attività economica che siano dei rischi legali rischi di mercato o a volte semplicemente si fa per dire rischi di reputazione e quindi investire in società tra virgolette buone anche dal punto di vista ambientale sociale e del governo societario in realtà produce anche degli effetti economici positivi per gli investitori riduce il rischio riduce la volatilità e molto spesso migliora anche il rendimento finanziario ma soprattutto crea delle opportunità cioè orienta l'economia in una direzione che è più coerente con quella degli obiettivi di politica pubblica di cui abbiamo parlato nella prima parte della mattinata questa pratica dell'investimento sostenibile e responsabile si estrinseca nella realtà in vari modi attraverso diversi strumenti credo che poi Alessandra Viscovi ne parlerà più diffusamente parlando dell'esperienza di etica SGR mi voglio focalizzare su uno strumento in particolare che è stato anche richiamato dalla nostra moderatrice che è quello dell'investimento di impatto o impact investment che è forse la forma più innovativa di finanza sostenibile e responsabile e lo è perché rovescia i termini della funzione obiettivo tipica dell'investimento normalmente l'obiettivo dell'investitore è massimizzare il ritorno finanziario tenendo presente alcuni vincoli che sono di natura legale o di natura etica o morale o quant'altro e con l'investimento di impatto i termini di questa funzione sono rovesciati nel senso che l'obiettivo è quello di massimizzare il ritorno sociale e il vincolo è quello della sostenibilità economica quindi gli investitori di impatto cercano imprese quelli che vengono chiamati i social business in italiano traduciamo imprese social anche se è un termine che ha qualche ambiguità imprese che fanno della generazione del valore sociale la propria ragione d'essere la propria missione naturalmente in quanto imprese devono essere sostenibili quindi devono anche produrre un plus valore sufficiente per garantire la continuità nel tempo e la remunerazione del capitale come tutti gli altri fattori di produzione ma il loro obiettivo non è generare più valore economico possibile bensì più valore sociale possibile ecco naturalmente questa è una sfida di forte innovazione esistono diversamente da quanto si possa pensare investitori sia privati istituzionali che sono disposti a investire parte più o meno ampia del proprio patrimonio in questa direzione perché lo trovano coerente con il proprio approccio con i propri obiettivi anche individuali oltre che istituzionali e quindi credo che questa sia un'area di sviluppo e di interesse per la comunità finanziaria che presenta una sfida di grande prospettiva politica naturalmente io non sono oggi nella condizione di dire se questa sfida sarà colta e se la comunità finanziaria internazionale e italiana in particolare sarà in grado di realizzare tutti gli strumenti e gli obiettivi che sono insiti in questa sfida però credo che ci siano tutte le condizioni per farlo e credo che dobbiamo lavorare in questa direzione evitando i processi alle intenzioni ma realizzando quel sistema equo di incentivi e di sanzioni quindi di bastone e di carote oltre che i sermoni in cui siamo tutti specialisti per realizzare delle condizioni che incentivino gli investitori ad andare in questa direzione io credo che in ultima analisi anche gli investitori più cinici riconoscano che esiste un'area di obiettivi comuni a tutta la società e che senza il raggiungimento dei quali non ci sarebbe nemmeno la finanza cinica grazie i concetti positivi sono quelli che piacciono di più quindi la finanza buona anche un aumento di rendimento va bene però sempre nell'ottica chiaramente del benessere comune che va appunto dall'ambiente alle persone quindi ovviamente un'economia sana di un'economia per la finanza